sia praticamente perfetto. Da New York la storia di Devon Rodriguez, artista che ritrae i volti di chi incontra tutti i giorni nella metro. I video finiscono sui social e lui dal Bronx conquista Manhattan. Anna Paula Ricci. Un grande talento e i social. Così Devon Rodriguez, poco più che a ventenne, ha cambiato la sua vita. È partito dal Bronx, il suo luogo di lavoro è la metropolitana. Ogni giorno ritrae anonimi viaggiatori con precisione fotografica. Su TikTok, Instagram e YouTube i video delle sue creazioni regalate a chi è stato appena ritratto hanno fatto impazzire i follower. Solo il primo video ha totalizzato 8 milioni di visualizzazioni in un giorno. Su TikTok Devon Rodriguez ha 20 milioni di followers, più altri 4 milioni tra Instagram e YouTube. Cifre vertiginose. Ora lo cercano grandi marchi, catene dei ristoranti, collabora con altri importanti TikTokers in un osmosi di seguaci che promette altre cifre da record. Rodriguez non perde comunque le vecchie abitudini, non rivela in anticipo dove salirà, ma il suo treno preferito è il numero 6. È quello che porta i pendolari dal Bronx a Manhattan. Lo stesso tragitto che ha fatto lui due mondi agli antipodi. Da una parte è la povertà della sua infanzia, dall'altra il sogno, i grattacieli, i loft. È lì che Devon voleva arrivare in una bella casa e in un bel quartiere. E ce l'ha fatta. Per il terzo anno consecutivo torna da domani...